È positivo il bilancio del progetto sperimentale di co-housing, abitazione con spazi in comune e camere private, attuato da Caritas Diocesana Veronese con Rete Donna, grazie a due appartamenti messi a disposizione dall'Ater e ristrutturati dagli alpini. Abbiamo accettato con entusiasmo il progetto di Rete Donna da parte della Caritas perché fa parte del DNA che abbiamo noi alpini, quindi aiutare gli altri in qualcosa di importante. C'è un bisogno essenziale e irrimandabile, irrinunciabile di trovare e reperire alloggi per persone in difficoltà, soprattutto quando si tratta nel nostro caso di mamme con minori, mamme sole con minori. Nei due appartamenti sono state accolte quattro mamme con un totale di dieci figli. Un nucleo familiare si è già reso autonomo e ha già lasciato l'abitazione. Vista l'esperienza positiva ci si chiede se l'Ater, azienda territoriale di edilizia residenziale che dispone di numerosi appartamenti in attesa di risistemazione, possa aumentare la propria disponibilità. È una grande soddisfazione questo progetto pilota perché già nel primo anno abbiamo visto che alcune ragazze hanno già finito il loro percorso e sono state reintegrate insomma nella società. Quindi è un progetto che anche Atre auspica che cresca, che si rinnovi e soprattutto anche sempre più porti ad aiutare queste ragazze. Ci sarà la possibilità di ampliarlo? Allora è la speranza di tutti. Gli appartamenti ci sono e grazie a Dio l'aiuto di chi si impegna anche nel risistemare gli appartamenti lo abbiamo portato a di mano perché qua siamo nella sede degli Alpini e hanno fatto un lavoro formidabile. Siamo qua anche per ringraziare perché sarebbe una cosa possibile e auspicabile. Nel 2019 Rete Donna ha accolto anche 73 tra adulti e minori negli alloggi di Caritas, Associazione San Benedetto e Comunità Protetta Braccia Aperte, 106 tra mamme e bambini nella casa della giovane, 48 mamme e bambini con il centro diocesano aiuto vita con 27 bambini inseriti nel micronido.